Dio moltiplica sempre i risultati dei nostri sforzi, come insegna la parabola dei panni e dei pesci del Vangelo. Lo ha ripetuto Papa Francesco ricevendo in Vaticano il comitato organizzatore della giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Il miracolo dei buoni frutti della GMG deve rivedersi ogni giorno, ha detto il Papa, in ogni comunità parrocchiale, diventando sempre di più missionari verso quei tanti che ancora non conoscono il messaggio di salvezza portato da Cristo. Infine, Papa Francesco ha invitato i brasiliani a prendere esempio dal gesuita José de Ancieta, evangelizzatore e apostolo del Brasile e recentemente proclamato santo.